Seguiamo la nostra manifestazione così continuiamo con le premiazioni e quindi passiamo ai baci d'amore Baci d'amore abbiamo solo due premi perché il terzo sarebbe il secondo per forza maggiore non è potuto venire di Siracusa quindi è avuto problemi di salute e quindi non c'è Passiamo quindi a premiare il terzo classificato che è Russo Rosario da Giovi Salerno Vieni Rosario Buonasera a tutti grazie a Lucia per questa sua prestigiosa manifestazione che esce di anno in anno Grazie Poi il tema di restare l'amore ovviamente non c'è bisogno di altro Infatti il tuo è stato un bellissimo turismo è stato apprezzato e quindi è Praticamente è il cliente è molto bene dice Ho respirato il tuo amore ed oggi sono uno migliore Ecco l'amore Grazie